Zadig o il destino Voltaire L'Orbo Ai tempi del Remo Adbar viveva a Babilonia un giovane chiamato Zadig, d'innata buona indole fortificata dall'educazione. Quantunque ricco e giovane sapeva moderare le sue passioni, non ostentava nulla, non voleva avere sempre ragione e sapeva rispettare la debolezza degli uomini. Stupiva vedere che nonostante il suo spirito egli non insultasse mai con motteggi quei discorsi così vaghi, sconnessi e tumultuosi, quelle maldicenze temerarie, quelle decisioni ignoranti, quegli scarsi grossolani, quel vano rumore che in Babilonia si chiamava conversazione. Egli aveva imparato nel primo libro di Zoroastro che l'amor proprio è un pallone gonfio di vento da cui appena punto escono tempeste. Innanzitutto Zadig non si vantava di disprezzare le donne e di soggiogarle. Era generoso e non temeva di obbligare degli ingrati seguendo il grande precetto di Zoroastro. Quando mangi, dà da mangiare ai cani, anche se dovessero morderti. Era molto saggio, poiché cercava di vivere con i saggi. Istruito nelle scienze degli antichi caldei, non ignorava i principi fisici della natura allora conosciuti e sapeva di metafisica quel che è saputo in ogni epoca, e cioè pochissimo. Era fermamente convinto che l'anno fosse di 365 giorni e un quarto, nonostante la nuova filosofia dei suoi tempi, e che il sole fosse al centro del mondo. E quando i più grandi maghi gli dissero, con una superbia insultante, che i suoi sentimenti erano falsi, che significava essere nemici dello Stato, credere che il sole giri su se stesso e l'anno abbia dodici mesi, e gli taceva, senza collera e senza sdegno. Zadig, assai ricco e di conseguenza pieno di amici, con la sua salute, i tratti gentili, la mente giusta e modelata, il cuore sincero e nobile, credette di poter essere felice. Doveva sposare Semira, che bellezza, nascita e ricchezze rendevano il primo partito di Babilonia. E gli nutriva per lei un affetto saldo e virtuoso, e Semira lo amava con passione. Stavano per raggiungere il fortunato momento che doveva unirli, quando, mentre passeggiavano insieme verso una porta di Babilonia, sotto i palmizi che adornano le rive delle Eufrate, videro venire verso di loro uomini armati di spade e di frecce. Erano i seguaci del giovane Orcano, nipote di un ministro, al quale i cortigiani dello zio avevano fatto credere che tutto gli fosse permesso. Non possedeva le grazie e le virtù di Zadig, ma convinto di valer di più, era disperato di non essere il preferito. Tale gelosia, frutto solo della sua vanità, gli fece credere di essere perdutamente innamorato di Semira. Voleva rapirla. I rapitori la afferrarono e, nella furia della violenza, la ferirono e fecero sanguinare a una creatura, la cui vista avrebbe intenerito le tigri del monte Imaos. Ella lacerava il cielo con i suoi lamenti. Gridava, mio caro sposo, mi strappano a colui che adoro. Non si preoccupava affatto del pericolo. Pensava solo al suo caro Zadig. Questi, frattanto, la difendeva con tutta la forza dell'amore e del coraggio. Con l'aiuto di due soli schiavi, mise in fuga i rapitori e riportò a casa Semira, svenuta e sanguinante. Ed ella, aprendo gli occhi, vide il suo liberatore. Gli disse, oh, Zadig, vi amavo come sposo, vi amo come colui a cui devo l'onore e la vita. Mai vi fu un cuore commosso più di quello di Semira, mai bocca più splendida, espresse sentimenti così toccanti, con quelle parole ardenti, ispirate dal sentimento del grande beneficio ricevuto e dal trasporto più tenero, del più legittimo amore. La sua ferita era leggera e guarì presto. Zadig era ferito più gravemente e il colpo di freccia vicino all'occhio gli aveva provocato una piaga profonda. Semira non chiedeva agli dèi se non la guarigione dell'innamorato. I suoi occhi erano notte e giorno bagnati di lacrime. Attendeva il momento in cui quelli di Zadig avrebbero potuto godere dei suoi sguardi, ma un ascesso sopraggiunto all'occhio ferito fece temere il peggio. Si mandò a chiamare il grande medico Hermes fino a Menfi ed egli venne con numerosi aiutanti. Visitò il malato e dopo aver annunciato la perdita dell'occhio predisse perfino il giorno e l'ora in cui quel funesto incidente doveva avvenire. Se fosse stato l'occhio destro disse l'avrei guarito, ma le piaghe dell'occhio sinistro sono incurabili. Tutta Babilonia, lamentando la sorte di Zadig, ammirò la profondità della scienza di Hermes. Due giorni dopo l'ascesso scoppiò da solo e Zadig guarì perfettamente. Hermes scrisse un libro in cui dimostrò che non avrebbe dovuto guarire. Zadig non lo lesse, ma appena poteva uscire si preparò a far visita a colei che costituiva la speranza di felicità della sua vita e per la quale soltanto egli desiderava avere occhi. Seppe per la strada che la bella signora, dopo aver dichiarato apertamente la sua insormontabile avversione per gli orbi, aveva sposato Orcano la notte stessa. A quella notizia egli cadde senza conoscenza, e il dolore lo portò sull'orlo della tomba. Fu malato a lungo, e alla fine la ragione vinse la tristezza, e l'atrocità di quel che provava gli servì persino di consolazione. Poiché ho sofferto, egli disse, un così crudele capriccio da una fanciulla educata a corte, devo sposare una cittadina. Scelsa Zora, la più savia e ben nata della città, la sposò, e visse un mese con lei fra le dolcezze del più tenero amore. Solo egli notava in lei un po' di leggerezza, e molta inclinazione a trovare sempre che i giovani più ben fatti possedevano più spirito e virtù degli altri. Il naso Un giorno, a Zora tornò da una passeggiata piena di collera, e lanciando alte esclamazioni. — Che cosa avete? le disse egli, mia cara sposa. Chi ha potuto farvi uscire così fuori di voi stessa? — Ahimè! disse lei. Sareste indignato con me se aveste visto lo spettacolo di cui sono stata testimone. Sono stata a consolare la giovane vedova Cosrù, che da due giorni ha innalzato una tomba al suo giovane sposo vicino al ruscello che limita il prato. Ella ha promesso agli dèi nel suo dolore di rimanere vicino a quella tomba finché l'acqua del ruscello vi scorrà accanto. — Ebbene, disse Zadig, è una donna notevole, chiamava veramente il marito. — Ah, riprese Azora, se sapeste cosa stava facendo quando sono andata a farle visita. — E che cosa dunque, bella Azora? — Faceva cambiare corso al ruscello. — Faceva cambiare corso al ruscello. Azora si profuse in invettive tanto lunghe, scoppiò in rimproveri tanto violenti contro la giovane vedova che quell'ostentazione di virtù non piacque a Zadig. Egli aveva un amico chiamato Cador, un giovane nel quale sua moglie vedeva più proprietà e meriti che negli altri. Si confidò con lui e si assicurò della sua fedeltà, per quanto poteva, con un dono considerevole. Azora, dopo aver passato due giorni da un'amica in campagna, tornò a casa il terzo giorno. Alcuni domestici, piangenti, le annunciarono che il marito era morto di colpo la notte stessa e non avevano osato portarle la funesta notizia e che Zadig era stato sepolto nella tomba dei suoi padri, in fondo al giardino. Ella pianse, si strappò i capelli, giurò di morire. La sera Cador le chiese il permesso di parlarle e piansero entrambi. L'indomani piansero di meno e pranzarono insieme. Cador le confidò che l'amico le aveva lasciato la maggior parte dei suoi beni e le fece capire che sarebbe stato disposto a dividere il patrimonio con lei. La signora pianse, si addirò, si addolcì. La cena fu più lunga del pranzo. Si parlarono con maggior confidenza. Azora fece le lodi del defunto, ma ammise che aveva dei difetti di cui Cador era privo. Durante la cena, Cador si lamentò di un violento mal di milza. La signora, preoccupata e sollecita, fece portare tutte le essenze con cui si profumava per provare se non ce ne fosse stata una buona per il mal di milza. Rimpianse molto che il suo grande Hermes non fosse ancora a Babilonia e si degnò perfino di toccare la parte dove Cador sentiva dolori così forti. Siete soggetto a questa crudele malattia? gli disse con compassione. Mi porta talvolta sull'orlo della tomba, le rispose Cador, e c'è un solo rimedio che mi possa giovare. È di applicarmi sulla parte il naso di un uomo morto il giorno prima. È uno strano rimedio, disse Azora. Non più strano, e gli rispose, dei sacchetti del signor Arnold contro l'apoplessia. Questa ragione, insieme con i grandi meriti del giovane, decisero finalmente la signora Azora. Dopotutto, ella disse, quando mio marito passerà dal mondo di ieri al mondo di domani, sul ponte Cinavar, l'angelo Azrel non gli accorderà forse il passaggio, perché avrà il naso un po' più corto nella seconda vita che nella prima. Prese dunque un rasoio, andò alla tomba dello sposo, lo innaffiò di lacrime e si avvicinò per tagliare il naso a Zadig, che trovò steso nella tomba. Zadig si alza, tenendosi il rasoio con una mano e fermando il rasoio con l'altra. Signora, le dice, non gridate più tanto contro il giovane Cosru. Il proposito di tagliarmi il naso vale quello di far cambiare corso ad un ruscello. Il cane ed il cavallo Zadig capì che il primo mese di matrimonio, come sta scritto nel libro dello Send, è la luna di miele e che il secondo è la luna di assenzio. Qualche tempo dopo fu costretto a ripudiare a Zora, divenuta troppo difficile da sopportare, e cercò la felicità nello studio della natura. Nessuno è più felice, diceva, di un filosofo che legge nel gran libro che Dio ci ha messo sotto gli occhi. Egli nutre ed innalza la sua anima, vive tranquillo, non teme nulla dagli uomini e la sua tenera sposa non gli vuole tagliare il naso. Piano di queste idee, si ritirò in una casa di campagna sulle rive delle Eufrate. Laggiù, egli non si preoccupava di calcolare quanti pollici d'acqua scorressero sotto gli archi di un ponte o se cadesse una linea a cubo d'acqua nel mese del topo più che nel mese del montone. Non pensava di fabbricare seta con la tela di ragno né porcellana con le bottiglie rotte, ma studiò soprattutto la proprietà degli animali e delle piante e acquistò ben presto una sagacità che gli permetteva di scoprire mille differenze dove gli altri uomini vedevano tutto uguale. Un giorno, passezzando vicino ad un boschetto, vide correre verso di lui un eunuco della regina seguito da molti ufficiali che parevano trovarsi nel più grande imbarazzo e correvano di qua e di là come uomini spaventati che cerchino una cosa preziosissima perduta. «Giovanotto», gli dice il primo eunuco, «Avete visto il cane della regina?» Zadig rispose modestamente «È una cagna e non un cane». «Avete ragione», rispose il primo eunuco. «È una spagnola molto piccola», aggiunse Zadig, appartorito da poco. Zoppica col piede sinistro anteriore, ha orecchie lunghissime. «L'avete vista allora?» disse il primo eunuco senza fiato. «No», rispose Zadig, «non l'ho mai vista e non ho mai saputo che la regina avesse una cagna». Esattamente nello stesso momento, per una delle solite stranezze del caso, il più bel cavallo della scuderia del re era sfuggito dalle mani di un palafreniere nelle piane di Babilonia. Il gran cacciatore e tutti gli altri ufficiali lo rincorrevano con la stessa inquietudine dell'eunuco dietro al cane. Il gran cacciatore si avvicinò a Zadig e gli chiese se aveva visto passare il cavallo del re. «È», rispose Zadig, «un cavallo dal galoppo perfetto e alto cinque piedi, ha lo zoccolo molto piccolo, una coda lunga tre piedi e mezzo. I paramenti del suo morso sono d'oro, a ventitré carati, e i suoi ferri sono d'argento, a undici denari. «Che strada ha preso? Dov'è?» chiese il gran cacciatore. «Non l'ho visto», rispose Zadig, «e non ne ho mai sentito parlare». Il gran cacciatore e il primo eunuco non ebbero dubbi che Zadig avesse rubato il cavallo del re e la cagna della regina. Lo fecero condurre davanti all'assemblea del Gran Desteram, che lo condannò al Knut e a passare il resto dei suoi giorni in Siberia. Appena emesso il giudizio, il cavallo e la cagna furono ritrovati. I giudici furono nella dolorosa necessità di ritirare la sentenza, ma condannarono a Zadig a pagare quattrocento once d'oro per aver detto di non aver visto quel che aveva visto. Dovette prima pagare l'ammenda, poi gli fu concesso di difendere la sua causa al consiglio del Gran Desteram. Egli parlò in questi termini. «Stelle di giustizia, abissi di scienza, specchi di verità, che avete la pesantezza del piombo, lo splendore del diamante e molta affinità con l'oro, poiché mi è concesso di parlare davanti a questa angusta assemblea. Vi giuro, suor Osbade, che non ho mai visto la rispettabile cagna della regina né il sacro cavallo del re. Ecco quel che mi è successo. Passezzavo verso il boschetto, dove ho incontrato il più venerabile eunuco e l'illustrissimo Gran Cacciatore. Quando vidi sulla sabbia le tracce di un animale, compresi senza difficoltà, che erano quelle di un cagnolino, solchi leggeri e lunghi, impressi su piccole sborgenze di sabbia fra le tracce delle zampe, mi hanno fatto capire che si trattava di una cagna dalle mammelle pendule, la quale aveva avuto i piccoli da pochi giorni. Altre tracce, in senso differente, che parevano aver sfiorato la superficie della sabbia vicino alle zampe anteriori, mi hanno indotto a pensare che avesse orecchie molto lunghe e poiché ho notato che la sabbia era sempre meno scavata da una zampa che dalle altre tre, ho capito che la cagna della nostra angusta regina era, oso dirlo, un po' zoppa. Quanto al cavallo del re dei re, sappiate che passeggiando per le strade di questo bosco ho visto i segni dei ferri di un cavallo. Erano tutti a distanza uguale. Questo, dissi, è un cavallo dal galoppo perfetto. La polvere degli alberi, in uno stretto sentiero largo solo sette piedi, era un po' smossa, a sinistra e a destra, a tre piedi e mezzo dal centro della strada. Questo cavallo, riflettuto, ha una coda di tre piedi e mezzo che con i movimenti a destra e a sinistra ha spazzato la polvere. Ho visto sotto gli alberi che formavano un pergolato alto cinque piedi le foglie dei rami appena cadute e ho così saputo che il cavallo le aveva toccate e perciò era alto cinque piedi. Quanto al suo morso, deve essere d'oro a ventitré carati poiché ha strofinato i paramenti contro una pietra di paragone di cui ho fatto la prova. Ho giudicato infine dalle orme lasciate dai suoi ferri su sassi di un'altra specie che era afferrato di argento a undici denari di metallo puro. Tutti i giudici ammirarono il profondo e sottile discernimento di Zadig. La notizia arrivò fino al re e alla regina. Non si parlava che di Zadig nelle anticamere alla camera e al gabinetto. E benché molti maghi pensassero che bisognava bruciarlo come stregone il re ordinò che gli si rendesse l'ammenda di quattrocento once d'oro a cui era stato condannato. Il cancelliere, gli usceri e i procuratori vennero da lui in gran pompa a riportargli le quattrocento once. Ne trattennero solo trecentonovantotto per le spese di giustizia e i loro valletti chiesero gli onorari. Zadig vide quanto fosse pericoloso talvolta essere saggi e si ripromise alla prossima occasione di non dire quel che aveva visto. L'occasione venne ben presto. Un prigioniero di stato scappò e passò sotto le finestre della sua casa. Zadig interrogato non rispose nulla ma gli fu provato che aveva guardato dalla finestra. Fu condannato per tale delitto a cinquecento once d'oro ed egli ringraziò i giudici per la loro indulgenza secondo gli usi di Babilonia. Grandio disse fra sé siamo proprio da compiangere quando passeggiamo in un bosco dove sono passati la cagna della regina e il cavallo del re. Com'è pericoloso mettersi alla finestra com'è difficile essere felici in questa vita.